In questo video parleremo della biologia della transizione di genere, ovvero sia il processo con cui una persona transgender può attuare cambiamenti che allineino il suo corpo con la propria identità di genere, e parleremo anche di cosa il futuro offre per queste terapie. Prima di parlare del presente e del futuro, dobbiamo iniziare dal passato. Sin dai primordi della nostra specie ci sono stati individui la cui identità di genere non è allineata a quella a cui vengono assegnati. Dalla nascita, che questo sia corretto o meno, non è materia del video, bensì di un prossimo a cui questo video fa da necessaria base. Noi parliamo unicamente del fatto che questa non è una tendenza moderna, bensì qualcosa di radicato in ogni epoca e in ogni popolazione. E sin dall'impero romano abbiamo notizie di ipotesi chirurgiche per risolvere la questione. Ad esempio Elio Gabalo chiedeva ai medici di tutto l'impero romano di poter avere dei genitali femminili. Al di fuori della castrazione fisica non c'è stato molto per parecchi secoli, fino a quando la chirurgia agli inizi del novecento non è diventata così sofisticata da permettere interventi come isterectomia in maggiore sicurezza. È in questo contesto che conosciamo Lily Elb, chi ha visto la Danish Girl sa di chi parlo. Non certo la prima donna trans, ma la prima donna trans a subire un intervento di transizione. Rimozione dei testicoli, rimozione del pene, creazione di una vagina artificiale e trapianto di utero e ovaie. Morì poco dopo l'operazione, perché diversi di questi interventi sono estremamente difficili ancora oggi, come vedremo. Ora, come funziona la transizione? Ci sono vari livelli, varie sfumature che possiamo considerare. Una prima sfumatura può essere, e non è una tappa obbligatoria, nessuna di queste tappe lo è, quella del vestiario. Alcune persone transgender trovano confortante e affermante da un punto di vista psicologico, indossare vestiti tradizionalmente associati al genere con cui si identificano in quel paese. Ripeto che questa non è una tappa obbligatoria, poiché il vestiario è qualcosa di culturale e non è intrinseco ad un certo genere. E alcune donne, del tutto cis, possono vestirsi in modi percepiti da alcuni come mascolini, ma restano donne. E non bisogna confondere transgenderismo e travestitismo. Ci sono persone che si vestono da donne, ma continuano ad identificarsi come uomini. Un secondo livello è la terapia ormonale. Come sa chiunque studi medicina o biologia, sono gli ormoni e non il DNA a determinare la struttura del corpo tra le altre cose quanto un corpo è femminile o mascolino. Gli effetti della terapia ormonale sono abbastanza palesi. Drastica diminuzione della peluria, le guance diventano più femmine, il cambio ormonale rende la pelle più morbida, il livello di idratazione e la durezza dell'epidermide è regolato dal testosterone e il collagene dagli estrogeni. E cambia persino l'odore del corpo, è una minore crescita muscolare, così come lo spessore delle unghie. Le donne trans riportano che con la terapia ormonale i capezzoli sono diventati più sensibili, anche orgasmicamente parlando. Gli ormoni maschili hanno ovviamente l'effetto opposto, più muscoli, più peluria, forme più angolari e pronunciate, odori tipicamente maschili, pelle differenziata. Un terzo livello riguarda i trattamenti estetici superficiali, quali, mi riferisco in particolar modo a persone transgender male to female, far allungare i capelli, truccarsi, ricercare particolari aromi, eseguire il training vocale, ossia allenare le vocali per imitare un timbro e una tonalità acute, tipiche delle donne. Per secoli tutto questo era essenzialmente tutto ciò che una persona transgender poteva fare, poiché l'intervento di transizione non era pensabile. Oggi però possiamo andare oltre. Abbiamo infatti interventi di femminizzazione vocale, che possono andare oltre il training, e un intervento di riduzione cartilaginea che di fatto toglie il problema del pomo da damo. Altra differenza tra maschi e femmine, cis, sono i fianchi a livello osseo. I fianchi maschili sono più stretti, non dovendo passare per gravidanza e parto. Citando fonte enciclopedica, se si inizia una terapia ormonale in gioventù, quando lo scheletro è ancora in formazione, ci sarà un allargamento dei fianchi, nonché, e questo a prescindere dall'età, la terapia ormonale contribuisce a depositare grasso in quelle zone. Abbiamo poi anche degli esercizi fisici specifici, che hanno lo scopo di rafforzare i gruppi muscolari che danno la forma femminile per tutta quella zona. Se questo non dovesse bastare, interviene la chirurgia, con degli impianti e delle iniezioni di grasso corporeo in zone apposite che danno le forme tipiche. Passiamo alla chirurgia estetica, che mira modificare l'aspetto del corpo senza agire sui genitali. Abbiamo interventi plastici che modellano la mandibola, il naso, le guance per dare un aspetto tipicamente femminile. Queste sono cose tutto sommato leggere, tipo la rimozione della peluria con il laser, il trapianto di capelli per sistemare l'attaccatura frontale. Ricordiamo che l'alopecia androgenica, la calvizie, potrebbe addirittura essere tamponata, perché senza l'azione testosteronica i capelli possono recuperare. Possiamo anche alzare o abbassare artificialmente le sopracciglia, rimpicciolire o al contrario allargare la struttura nasale, e interventi per ridurre o addirittura aumentare la distanza tra il labbro superiore e il naso, anche questa è una differenza tipica tra i sessi, e per aumentare o diminuire la consistenza delle labbra. Passiamo a cose un po' più sostanziose. Interventi per il seno, che esistono da parecchio tempo. Già solo la terapia ormonale agisce sui tessuti responsabili, aumentando i livelli lipidici locali. Domanda, può una donna trans allattare? La risposta è sì, tanto che persino un maschio, un maschio cis, può allattare, in certe circostanze. La prolattina è l'ormone deputato, come dice il nome stesso, alla produzione di latte per le ghiandole mammarie. Il cervello maschile non è incapace di produrla. Alcuni farmaci antichi e alcuni fenomeni medici potevano far produrre moltissima prolattina anche in maschi. Ricordiamo che la nostra specie sviluppa le differenze di sesso tardi nello sviluppo embrionale, e che quindi si sviluppano strutture omologhe in maschi e femmine, che poi gli ormoni incoraggiano o reprimono. Inutile dire che le donne trans sono target primari per questa possibilità e hanno più volte allattato. La scienza ha concluso che, da un punto di vista nutrizionale, il latte prodotto da donne trans è del tutto adeguato a nutrire un bambino. Gli unici ormoni che possono essere presenti, ossia progesterone ed estrogeno, sono presenti in gravidanza. Normalmente non sono pericolosi per il bambino. Questi interventi sono così efficaci che persino noti transfobici, quando parlano di donne trans, si lasciano scappare il lei. E poi subito si correggono, isterici. Il motivo è proprio che il loro cervello le riconosce come donne. E ora passiamo alla chirurgia genitale, che è quello per cui siete venuti qui, probabilmente. Cominciamo dalle donne trans. Anzitutto la rimozione di testicoli. Già solo questo aiuta enormemente, perché la produzione di testosterone cala a picco, e ciò a cascata favorisce tutte le altre cose dette prima. Poi abbiamo la vaginoplastica, addio monetizzazione, mi sei mancata, e l'intervento con cui si cerca di creare un canale vaginale artificiale. La tecnica più usata è quella dell'inversione del pene. Il glande viene estratto dal corpo cavernoso e viene trasformato in un clitoride, perché filogenicamente il clitoride è quello. Mentre il prepuzio e lo scroto vengono usati per formare le pareti vaginali. Dopo l'intervento bisognerà usare un dilatatore per mantenere la forma della vagina, e con il tempo questa forma si stabilizzerà. Esiste anche una variante peritoneale, che, come dice il nome stesso, sfrutta il tessuto peritoneale per creare una vagina che è capace di lubrificazione, non responsiva alla sessualità, per ora. Oltre alla vaginoplastica c'è anche la vulvoplastica, che appunto crea la vulva, la parte più esterna degli organi genitali femminili, creando le grandi e le piccole labbra usando tessuto scrotale. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, la capacità di piacere sessuale è preservata, ed anzi, le terapie ormonali aumentano l'innervazione. Nelle donne in menopausa è possibile postulare che abbiano lo stesso effetto su un corpo XY. Con una soddisfazione statisticamente molto alta rispetto al preintervento, orgasmi più intensi e maggiore tasso onanistico. Ricordiamo che l'orgasmo femminile statisticamente è soprattutto clitorideo, è solo in minima parte vaginale. Ok, morte bianca, possono avere una vagina, va bene, ma non un utero. Sono già in corso diversi studi per il trapianto di utero, sono già stati fatti con successo su cavie, con annessa a gravidanza successiva di successo, e Dariusert ha avuto un trapianto uterino con successiva gravidanza. Anche in Italia, se non erro, abbiamo avuto un trapianto con successiva gravidanza di successo. Ovviamente sono stati fatti solo su donne cis per ora, perché l'intervento è ancora molto delicato, ma con l'avanzare della chirurgia è praticamente certo che al che delle donne trans otterranno uteri funzionanti. Mi chiedo se a quel punto potranno avere o meno dei cicli mestruali, mimando la ciclicità ormonale classica oppure no. In ogni caso moltissime donne non hanno ciclo mestruale. Ok, morte bianca, possono avere un utero, ma non avere ovaie proprie. In realtà, studi da cavie sono riusciti a generare partendo da cellule staminali pluripotenti XY e farle maturare poi in ovociti. In parole povere, prendere cellule maschili e trasformarle in ovuli, che sono stati poi con successo impiantati. Per quanto riguarda il female to male, ci sono interventi per ridurre il volume del seno, e poi c'è l'isterectomia, rimozione dell'utero, ed infine la falloplastica, ossia la costruzione di un neopene, utilizzando espianti di pelle e costruendo sul clitoride, che è estremamente innervato, un neopene. E scrotoplastica, potete immaginare da soli che cosa faccia. Esiste una terapia che espone ad ormoni il clitoride, facendolo allargare e poi si utilizza quello come base per costruire un pene, estendendo l'uretra, se necessario. Per chi se lo chiedesse, sì, possono avere erezioni, grazie a degli impianti specifici. Con i maschi trans il discorso è teoricamente più semplice, perché sono stati già fatti trapianti di pene e trapianti di testicoli, perché il trapianto di testicoli è già una realtà clinica tra gemelli o mozigoti, praticamente il patrimonio genetico è quello, e si è fatto questo per un veterano, se non erro. Quindi la realtà clinica che possa un giorno essere fatto per uomini trans non appare lontana. Ok, morte bianca, ma anche così lo scheletro resta simile a quello di un maschio cis per quanto riguarda le donne trans. In realtà questo è falso, per due motivi. In primo luogo, se la terapia ormonale viene iniziata presto, lo scheletro è ancora in tempo per cambiare la propria struttura radicalmente, producendo mani più delicati e fianchi dalla forma classica. Ma soprattutto lo scheletro di una donna trans o di un uomo trans è a volte riconoscibile, per via degli interventi di femminizzazione facciale. Questi interventi modellano il cranio, e come tale il cranio rimane modificato anche quando resta solo lo scheletro. Tanto che un paper ha proposto di usare questo metodo di classificazione dei cadaveri laddove presente come marker per la questione di genere. È molto più utile. Ed infine passiamo al DNA. Partiamo dal presupposto che sarebbe del tutto inutile cambiare il DNA di ogni singola cellula se il corpo è ormai totalmente femminile, sia da un punto di vista estetico o esterno, sia genitalmente interno. Il DNA serve a dire al corpo come essere, diventando irrilevante dopo. Su Quora un utente aveva descritto il cambiare il DNA delle persone trans inutile come cambiare il piano architettonico di un palazzo. Cambia il palazzo, chi se ne frega del piano architettonico originale. Sconsiglio dunque di inseguire i transfobici nel loro giochetto di scaricabarile. E allora la vagina? E allora l'utero? E allora le ovaie? E allora i cromosomi? Non è un gioco che potete vincere perché non si può vincere con chi bara e ha deciso in partenza che non intende riconoscere la realtà. Fosse anche possibile cambiare il DNA? Direbbero beh non è il DNA con cui sei nato. Fosse possibile tornare indietro nel tempo e cambiare retortivamente il DNA al neonato? Direbbero non è il DNA della linea temporale originaria? Non si arrenderanno mai. A dimostrazione di ciò, se tu magicamente cambiassi il DNA di ogni singola cellula di una persona transgender, a livello fisico non cambierebbe niente né a livello genitale né gonadico. Il DNA è inutile a questi fini dopo lo sviluppo embrionale. Infine, cambiare il DNA è inutile perché tutto il concetto di terapia di transizione è dovuto al fatto di diminuire la disforia e far sentire bene, a proprio agio, le persone transgender. Una persona transgender può dare grande importanza a cosa ha tra le gambe. Io non ho mai conosciuto una sola persona transgender a cui freghi qualcosa dei suoi cromosomi. Quelli interessano di solito a chi li vuole morti. Ma comunque chiediamoci, è possibile cambiare il DNA di una cellula? Sì, con CRISPR possiamo cambiare i geni che vogliamo. È possibile cambiare il DNA di più cellule? Sì, succede anche naturalmente a un sacco di persone. Mosaicismo quando un ceppo di cellule muta e si riproduce ottenendo un pezzo del tuo corpo che ha un DNA radicalmente diverso dal resto del corpo. C'è un mosaicismo specifico in cui si perde il cromosoma Y per le cellule emopoietiche. Sono stati fatti trapianti di tessuti in cui si prelevano delle cellule, si cambia la linea genetica e poi le nuove cellule vengono reinserite. In effetti qualcuno che ha subito un trapianto avrà, per definizione, moltissime cellule dal DNA radicalmente nuovo. È possibile cambiare il DNA di tutte le cellule di un individuo? Sì, se lo si fa quando è ancora un embrione. Le cellule sono poche, è possibile cambiare il DNA di tutte loro e quindi quelle cellule si riprodurranno e avranno un essere che ha un DNA al 100% modificato. Si può cambiare il DNA di tutte le cellule di un adulto? Al momento non è mai stato fatto. Il problema è che noi cambiamo il DNA di cellule specifiche, usando specifici vettori per quelle cellule e non altre, ma in futuro dei nanodroidi potrebbero essere in grado di cambiare il DNA di ogni singola cellula. In ogni caso, studiate come reagisce il DNA a livello di metilazione alla terapia ormonale. Rimarrete sorpresi. Morte bianca, io sono contrario a queste terapie perché hanno dei rischi. Questa è un'obiezione decisamente stupida. E nasce dal fatto di non avere la più palla di idea di come funziona la medicina. In medicina ogni intervento e ogni farmaco ha dei fattori di rischio. Non esiste la medicina perfetta. Secondo questo ragionamento l'intera medicina andrebbe abolita. Ma no, ogni uomo, ogni donna, decide, una volta informato dei rischi, se procedere o meno. Semplicemente nell'analisi costi-benefici sono molto maggiori i benefici dei costi e dei rischi. E nella fattispecie, le persone transgender hanno dei tassi di patologie mentali e di suicidio infinitamente più bassi dopo queste terapie. Affermare che si vuole rendere illegale questo intervento per il loro bene significa mentire sapendo di mentire. Perché togliendo questi interventi queste persone stanno peggio, non meglio. Morte bianca, e che mi dici di chi si pente dell'intervento? Di nuovo, ogni singolo intervento chirurgico ha dei tassi di pentimento, non è una buona ragione per renderlo illegale. Se accetti di farlo, accetti anche le conseguenze. Ma comunque ricordiamo che i tassi di pentimento per le terapie transgender sono, forse, l'intervento con il tasso di regret più basso della storia della medicina. Secondo la meta-analisi, come vi ho spiegato la meta-analisi è lo studio più importante che si può fare del 2024 di TornTorn, sono meno dell'1%. Meno dell'1%. E vi do un dato. Questo meno dell'1% non vuol dire quasi mai io non voglio più essere trans. Bensì, nella maggior parte dei casi, stando agli studi, sono persone ancora trans che semplicemente smettono di fare terapia perché dicono che subiscono così tanto bullismo e pressioni che preferiscono tornare a nascondersi. Se i transfobici volessero far diminuire davvero il regret rate, dovrebbero lasciare in pace la gente. Ma è esattamente quello che vogliono questo. Ricordiamo che i puberty blockers vengono prescritti anche a ragazzi cis che hanno pubertà precoce da un sacco di tempo. Se ci fossero prove di abbassamento di cui sarebbero già stati banditi. Non ci sono evidenze di questo. E ancora oggi l'unica review mai prodotta dire il contrario, senza prove, semplicemente dicendo non ci sono prove che sono sicuri e facendo una correlazione senza causazione di abbassamento di cui su una campionatura minuscola, che è una cosa sbagliatissima, indovinate chi l'ha fatta questa review? Buxendale, che per pura coincidenza scrive per il giornale conservatore Unheard, che è estremamente critico per quanto riguarda la questione transizione di genere? E che sempre per pura coincidenza si è lamentata che le riviste di peer reviewing rifiutano di ospitare i suoi studi fatti male. Le coincidenze. Succedono le coincidenze. Ok, morte bianca, hai vinto tu. È legittimo che queste persone facciano l'intervento. Ma i pampini. Nessuno pensa ai pampini. Per me i pampini non devono poter fare interventi e bisogna renderli illegali. Bufala! I bambini non possono fare questi interventi! È una bufala che è stata smentita un sacco di volte! Le linee guidamediche sono chiarissime. Nessun paese pratica interventi di transizione sui bambini. Questa è una delle più grandi bufale della storia, propagata da siti di estrema destra che distorcono persona giovane con bambino e distorcono assistenza psicologica con intervento chirurgico che diventa, nel titolo dell'articolo, hanno castrato i bambini! Tradotto, 22enne andato dallo psicologo. Tutto in maiuscolo, ovviamente. Nessun essere umano prima della pubertà, definizione di bambino, può ottenere alcun tipo di intervento, solo assistenza psicologica. Esami per capire se è effettivamente disforico o meno. Solo una volta che la pubertà è avviata si possono usare farmaci. La società endocrinologica proclama che per i puberty blockers bisogna aspettare la pubertà, per gli ormoni devono essere almeno di 16 anni, prima di iniziare la terapia ormonale, e per la chirurgia o 18 anni o non se ne parla proprio! Anche perché si è visto che la disforia nei bambini raramente persiste in età adulta, mentre negli adolescenti il tasso di persistenza è molto alto. Non solo. Prima di fare qualsiasi cosa serve uno screening psicologico per assicurarsi che il paziente sia seriamente disforico e non semplicemente una cosa passeggera. E in diversi paesi serve il consensus pure dei tutor legali. Quindi di che stiamo parlando? Del nulla. Vabbè, morte bianca, adolescente, bambino, stessa cosa. No, non lo è! No, non lo è! Un neonato non è in grado di capire se il giocattolo esiste ancora quando non lo vede. A sette mesi, sì. A due anni inizia a parlare. Dai tre anni iniziano a distinguere realtà da fantasia. Dagli otto anni gli scienziati dicono che possono usare i computer. Verso i dodici anni inizia la pubertà e i desideri sessuali si strutturano. A quattordici anni in Italia c'è l'età del consenso e molti propongono il voto per i sedicenni. Asserire che dallo spermatozoo ai diciassette anni e undici mesi non cambi niente a livello mentale ed irresponsabilità è pura e semplice schizofrenia. I diciassettenni sono e come in grado di acconsentire già oggi a diversi interventi chirurgici. Cose ben più pesanti di qualsiasi terapia ormonale. E ricordiamo che le terapie fanno mostruosamente calare le patologie mentali, il rischio di suicidio e aumentano ad altissimi livelli la felicità. Quindi sì, c'è un effettivo e terapeutico bisogno. E i medici non è che autorizzano le cose a cazzo di cane. Ci lavorano, ci studiano a lungo prima di prendere una decisione. La metanalisi del 2022 conferma che se la disforia persiste durante la pubertà, allora è permanente. Esattamente come per il video sull'omosessualità, io vi metto in guardia da omofobi e transfobici che cerripiccano le pochissime ricerche che parlano di malessere, classiche no, fatte tra gli anni 60 e gli anni 80, prima red flag, in Texas, seconda red flag, con le conversion therapies e altre torture imposte con tutti che dicevano alle persone transgender smettila, smettila, smettila ogni singolo giorno. Oh, guarda caso, dopo un po' loro smettono. Ops! Ricordiamo infine che i puberty blockers sono scientificamente considerati reversibili. Ripeto, signori, non basta che uno studio fatto in Texas dalla Protestant Donald Trump University dica una cosa. Servono tanti e tanti studi. Quando ci saranno tanti e tanti studi, io sarò il primo a dire, ok, cambiamo le linee guida perché quel farmaco non si può più usare. Usiamone un altro. In medicina funziona così. Non funziona che alla prima segnalazione si strilla e si chiude tutto. Prima di strillare, controllate chi ha fatto lo studio, in che anno, per quale istituto, quale campionatura, che metodologia e se ci sono problemi o conflitti di interesse. Se no, stiamo ancora qui a sentirci lo studio della Donald Trump University. Ogni cosa, nell'adolescente, come nella vita, ha dei rischi. Giochi a calcetto, rischio fratture, anche irreversibili. Mangi, rischio avvelenamento. Non possiamo vietare una pratica a dei diciassettenni solo perché c'è un rischio. Perché rendere illegale una terapia, nonostante ciò, comporterà il rischio altissimo di suicidio. E questo per qualche motivo ai transfobici va bene. Sappiamo benissimo perché gli va bene. Mentre permettere una terapia con enormi controlli non va bene. Questa è ipocrisia. Contradizione. Fatalissima contraddizione. Ma in realtà c'è una mistificazione. Gli effetti della terapia dei puberty blockers sono, come ho detto, classificati come reversibili. Tanto che all'istologia testicolare, otto mesi dopo aver smesso la terapia, è indistinguibile dall'inizio della terapia. Il problema è che diversi studi antichi affermavano che queste terapie potessero forse, senza dimostrarlo, essere problematiche per gli adolescenti, in quanto quello è un periodo in cui lo scheletro si sta ancora formando e quindi potrebbe esserci una minore densità minerale ossea. Poi però studi più recenti hanno esaminato che i giovani transgender, pur senza terapia, hanno un tasso di densità minerale ossea basso. Il problema è che alcuni avevano una dieta povera. Diversi studi recenti confermano dunque che la pratica è sicura se viene fatta bene. E ora massacro il Cass Report, uno degli studi peggio condotti che io abbia mai avuto il dispiacere di vedere. Purtroppo ci sono così tanti errori che non ho il tempo di farli notare tutti. Sono troppi! Già diversi esperti hanno fatto un ottimo lavoro e hanno massacrato questo studio. Ve ne dico solo alcuni. Ha dei bias di partenza. L'autrice appartiene ad una organizzazione politicamente motivata anti-movimento transgender e ha lavorato ad uno studio usato da Ron De Santis. Ron De Santis, quello che ha definito il politico di estrema destra Donald Trump non abbastanza di destra. Ron De Santis. Iniziamo benissimo, iniziamo benissimo proprio! Lo studio è contraddiettore per tre motivi. Ha completamente rigettato più di 100 studi che sono dei pilastri della medicina dicendo che non sono abbastanza precisi, secondo un criterio tutto suo che è rigettato dalla comunità scientifica. In secondo luogo, lo studio proclama di voler proteggere i bambini, ma in realtà condanna la terapia prima dei 25 anni. Sulla base di niente. Vi ricordo che a 25 anni potete votare, scopare, sposarvi, fare figli. Vi linko un video di questa youtuber che ha veramente distrutto il report. Ma come, scusa? Dici che non si possono fare affermazioni basate su 100 studi, perché eh, non sono abbastanza, e poi sulla base di niente, raccomandi minimo 25 anni? Neanche uno studio, portato dal Cass Review, porta prove che i puberty blockers siano pericolosi. Neanche uno! Terza contraddizione. Lo studio non sembra aver compreso gli studi che citava. Nomina diversi studi, definendoli inconcludenti, cioè risultato non chiaro, anche quando erano concludenti. Ci sono gli screenshot come prova! Quattro. Lo studio pretende di considerare tutto, persino il riconoscimento dell'identità di genere dell'ododoscente, come intervento e come tale da scoraggiare, mentre ignorarlo non è considerato avere un effetto interventistico. Non solo. Lo studio pretende che gli studi siano RCT, cioè Randomized Control Trials. Il problema è che questa cosa, come è stato detto infinite volte, non si può fare con degli adolescenti in questo contesto. Perché per fare questo tipo di studi bisognerebbe creare due gruppi, uno che riceve la terapia e uno che non riceve la terapia, senza consapevolezza. Il problema è triplice. Nessuno vuole partecipare, perché una persona transgender vuole fare terapia prima possibile. C'è un selection bias, chi vuole partecipare non ha una necessità fortissima di fare transizione. Campionatura sbagliata. Ed è stato dichiarato persino non etico. Diversi studiosi hanno addirittura detto che potrebbe essere fisicamente impossibile pur volendo, perché banalmente si capisce se il mio corpo cambia e quindi se sto nel gruppo sì o nel gruppo no. E ciò influirà sull'esito. Riassunto di tutte le nostre evidenze. Le terapie per il cambio di espressioni di genere sono estremamente efficaci e necessarie. Funzionano, non sembrano avere alcun tipo di rischio e sono applicate su base volontaria e adulta. Le terapie per adolescenti sono applicate con criteri severissimi e del tutto reversibili. Ciò è confermato dal consensus degli enti scientifici deputati, asserire che sono tutti corrotti è praticamente terrapiattismo, e dalle meta-analisi e gli studi a lungo termine. Gli studi dicono che tutto questo è vero e i pochissimi studi che dicono il contrario sono appunto pochissimi, vecchissimi e hanno evidenti bias ed errori. Questi sono i fatti, questa è la logica. Condividete questo video quando qualcuno ha dei dubbi.